Inutile nascondere che ci può essere e c'è una questione di organizzazione dell'azienda e quindi siccome siamo ancora al nascere della differenziata ci sono dei meccanismi che vanno sistemati, adeguati, verificati però obiettivamente dobbiamo dircela tutta, senza la collaborazione del cittadino, senza il percepire e di avere un minimo di amor proprio per la propria città questa è una battaglia che noi perderemo. La considerazione è che casa nostra non è soltanto dopo che si chiude la porta ma casa nostra è il nostro marciapiede, la nostra strada, il nostro quartiere, anzi direi prima di salire a casa nostra passiamo alle nostre strade e se non c'è la consapevolezza e un minimo di amor proprio da parte dei cittadini nel ritenere questa città un po' più pulita e decorosa è una guerra che noi difficilmente possiamo vincere, non possiamo né militarizzare la città né mettere le telecamere a ogni angolo ci dobbiamo appellare a un nuovo senso civico che in questa città deve rinascere perché se c'è il marciapiede in basso di spazzatura non è una bella presentazione che faccio di casa mia quindi io chiedo ai cittadini di darci una mano nella risoluzione ripeto, c'è qualche problema di gestione della RAP, nessuno lo nasconde però è chiaro che senza la collaborazione noi non ci riusciremo e da noi in quinta circoscrizione è partita in parte la differenziata solo in alcune strade stiamo lavorando ad esempio per ampliarla in alcune traverse perché quando abbiamo via Serra di Falco in raccolta differenziata ma al lato a monte è tutto ancora in indifferenziato capisci che c'è qualche problemino di gestione quindi ho chiesto all'amministrazione di ampliare questa area di raccolta differenziata perché altrimenti le persone che non hanno più il cassonetto non sanno più dove buttarla poi alla fine qualche spazio lo trovano anche se non è giusto farlo quindi dobbiamo mettere nelle condizioni davvero di differenziare e di dare un servizio migliore ai cittadini però ripeto, noi dobbiamo chiedere con forza un maggiore controllo del territorio perché qualche multa in più va fatta per controllare il nostro territorio e gestire in maniera diversa e appellarci a un po' di amor proprio in questa città perché in questo momento i palermitani sono un po' più demoralizzati rispetto a qualche anno fa aiutateci a ritenere pulita questa città perché poi è casa nostra confidiamo molto nelle scuole e con molte scuole stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione perché i bambini finalmente ci possano aiutare a noi adulti a mantenere questa città più pulita e chiederemo comunque alla RAP di bere dei servizi un po' più costanti e più presenti non è colpa soltanto dei cittadini ma insieme RAP, istituzione, circoscrizione, comune vigili urbani per un controllo maggiore del territorio forse possiamo dare risposte più concrete a questa città e alla questione dei rifiuti ci sono servizi, la questione dei rifiuti ingombranti ormai è diventata una questione incredibile io ho chiesto e sto chiedendo alla Camera di Commercio ad esempio di sapere quanto materassi vengono venduti in questa città perché è una questione, in ogni angolo c'è un materasso io voglio capire quanto volte le camere da letto vengono cambiate dai nostri cittadini perché voglio capire che cosa c'è dietro anche i materassi voglio capire se se ne vendono mille come ne troviamo duemila in strada qualche problema ce lo dobbiamo porre è un problema dei rifiuti ingombranti che fa spendere soldi all'amministrazione comunale vi ricordo che sono stati stanziati 800 milioni fuori il contratto di servizio quindi capite che con 800 milioni cosa si potrebbe fare e quindi dobbiamo capire bene che cosa succede sugli rifiuti ingombranti però ad esempio ci sono dei servizi ci sono i servizi a piazzagiotto dove si può conferire il rifiuto non lasciatelo all'angolo perché all'angolo è un costo per i cittadini oltre al decoro urbano